e molto veloce. È in grado di lavorare tutti i tipi di farina, in quantità variabile da 1 a 2 chilogrammi e mezzo per volta. La sua potenzialità produttiva è di 6 chilogrammi ora. Può preparare impasti anche per pizza e pane. La semola di grano duro è particolarmente indicata per produrre pasta di buona compattezza. La piccola dolly è una macchina di alta classe, facile e piacevole da usare. Con le trafile in bronzo viene prodotta la pasta ruvida, con quelle in teflon la pasta liscia. Sono disponibili trafile per tutti i tipi di pasta. La pasta corta viene prodotta con l'ausilio di un coltello rotativo. La velocità di taglio che determina la lunghezza può essere variata a piacere. La dolly produce anche pasta sfoglia per la raviolatrice manuale, che viene fornita come accessorio opzionale. Si possono produrre ravioli di formato 34x40 mm di tipo casalingo, con sfoglia fine e ripieno abbondante.